ciao ragazzi buongiorno niente questa settimana non ho fatto il video unboxing degli arrivi anche se c'era di roba ma chi mi segue se altri social comunque lo sa ma perché mi volevo soffermare di più sui vari arrivi diciamo più nello specifico insomma per intenderci niente oggi volevo parlarvi del a ciascuno il suo della mafarca arrivato qualche giorno fa ho fatto già il foto unboxing infatti aperto come potete vedere artwork davvero bello e ricercato a ciascuno il suo e niente no volevo spendere due parole per la mafarca che è una delle nuove label italiane è uscita con sei titoli molto variegati tra l'altro tra il dramma il comico l'horror quindi si appunto diciamo spazia un po con i vari generi ed è da parte mia molto apprezzata questa cosa perché fa uscire titoli inediti 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 o addirittura inediti proprio nel home video o inediti in hd tipo questo qui quindi da possibilità a chi vuole fare a chi vuole una visione diciamo di qualità superiore di accedere a certi titoli appunto mi perdonatemi un po la ripetitività niente ve lo faccio vedere un attimo al volo perché non vorrei soffermarmi tanto sul una questione estetica anche se merita davvero c'è anche una copertina alternativa usa amara e scanavo quindi anche la qualità della stampa della carta della della marai appunto la serigrafia del disco è tutto di alto livello ma quello che mi fa più piacere è il livello alto che mantiene sulla sulla qualità dei restauri che in genere sono come in questo caso immagino di proprietà cioè quindi li fanno fare loro mi fa fare sesso la mafarca e posso assicurare che io il film l'ho visto due sere fa ed è altissimo livello qualitativamente video l'audio in questo caso un audio analogico ps psm quindi non compresso un audio stereo molto ben definito cioè quindi comparto tecnico comparto packaging e comparto artistico perché comunque qua stiamo parlando di un filmone di petri con il grande ma già maria volonté tra l'altro tra gli attori c'è già maria volonté irene papas gabriele ferzetti e salvo randone è veramente un gran bel film che tra l'altro consiglio un'altra cosa che che mi piace della mafarca e sono i contenuti speciali contenuti speciali che sono in genere mi sembra fino adesso tutti i loro titoli sono curati dell'africorama e sono sempre contenuti extra esclusivi in questo qui troviamo c'era una volta la sicilia nuova intervista al truccatore pieno antonio mecacci quindi il truccatore del film e non solo è stato il truccatore anche di altri film di petri quindi non solo di questo la intervista io l'ho viste tutte quindi vi sto parlando dopo averle visionate ed è molto interessante poi abbiamo unixum nuova intervista allo storico del cinema roberto kurti autore di elio petri investigation of a filmmaker è appunto uno storico di cinema che ha fatto un film proprio su petri e niente anche questa io l'ho trovata interessantissima ma devo dire ma per oltre alle qualità artistiche ma soprattutto per qualità umane da quello che ho potuto riscontrare io quella più interessante è stata l'ultima che l'eversivo il disadattato nuova intervista registro fabrizio catalano nipote di leonardo sciascia anche perché per chi non lo sa questo film è tratto appunto da un romanzo di sciascia quindi questa intervista le ripeto io il catalano l'ho trovato una persona davvero interessante nell'intervista proprio sul lato umano e sociologico mi ritrovo con lui su molte cose quindi l'ho apprezzata particolarmente niente è un'edizione che va goduta cioè quindi ve la consiglio ve la consiglio stravivamente compratela sulla potete trovarla sulla pagina ufficiale mafarca di facebook tra l'altro so che a breve partiranno anche con un sito loro quindi niente spero di non avervi annoiato è stato molto veloce però ci tenevo a consigliarvi questo titolo ok io vi ringrazio vi auguro una buona domenica e ciao a tutti ovviamente mi piace riscrivetevi le solite cose va bene ciao